in un altro mio video ho spiegato che c'è stato una grande corsa intorno al 24 di novembre data che forse non ti devo ricordare caro amministratore di condominio e caro condomino che perché è una data importante che dovremmo ricordarci ma più o meno in quei giorni tu amministratore tu condomino vi siete incontrati per fare un'assemblea condominiale veramente in velocità flash velocissima per poter deliberare l'esecuzione dei lavori del super bonus al 110 per cento questo video non sarà molto lungo quindi non infarcirò questo discorso con diciamo richiami particolari al decreto aiuti quater però mi sento solo di così riassumere il fatto che il decreto aiuti quater ha previsto che entro il giorno 24 di novembre doveva essere fatta un'assemblea dove veniva deliberata l'esecuzione dei lavori e dentro il 25 doveva essere depositata la cilas oggi mi farebbe piacere condividere con te un pensiero e dei ragionamenti su quella delibera assembleare in modo che tu possa andare a rileggere la delibera assembleare e quindi vedere se quello che io ti dico è presente in quella delibera assembleare allora innanzitutto parliamo di esecuzione di delibera che dai via l'esecuzione dei lavori a mio avviso come ti ho detto in un altro video questa delibera deve contenere anche il almeno il contratto il contratto di appalto perché perché dobbiamo dare credibilità a quella delibera qualcuno magari può aver pensato di fare una delibera e di dire e di non menzionare il contratto perché il dettato normativo effettivamente parla solo di delibera di esecuzione dei lavori se questo certamente da un punto di vista formale può essere considerato sufficiente perché quello chiede la norma e se io ti vengo a chiedere dove sta scritto che ci deve essere anche il contratto di appalto sottoscritto la risposta è non c'è scritto da nessuna parte io vorrei fare un ragionamento un passino in più come si fa a deliberare un lavoro senza che ci si conosca l'importo senza che si conosca quali opere vengono svolte una delibera assembleare che da il via all'esecuzione dei lavori dove viene indicato i lavori di efficientamento energetico all'importo che successivamente ci verrà comunicato a mio avviso perde un po di credibilità ma sotto quale profilo se abbiamo detto che la norma quello ci chiede io ho paura che possa esserci l'agenzia delle entrate che va a spulciare le carte una volta che hai fatto il super bonus una volta che hai ceduto il credito d'imposta che vada a verificare se effettivamente questo presupposto quello del decreto aiuti quater quindi della presenza di una delibera assembleare entro il giorno 24 con quella delibera sia presente e non vorrei che ti venisse contestato e ricordati che l'onere della prova è tua vuol dire che sei tu che devi dimostrare che quello che ti contesta l'agenzia delle entrate è falso effettivamente quella delibera assembleare sia completa sia ritenuta valida perché ricordati sempre che un principio del nostro diritto è quello nel quale abbiamo una norma generale astratta che dice che va a regolare una situazione ipotetica che però poi va concretizzata va portata diciamo in concreto nel caso specifico e quindi per poter ritenere che una certa fattispecie si usa questo termine va su google a vederti cosa vuol dire fattispecie giuridica che questa fattispecie sia effettivamente si sia effettivamente concretizzata sia completa di ogni suo elemento secondo me una delibera assembleare senza contratto di appalta è una delibera assembleare a mio avviso carente che fa fatica stare in piedi non voglio usare termini nulla nullità inesistente inefficace non è un problema che mi pongo adesso voglio stare un po più leggero ti dico che secondo me è carente ok rischia di perdere la sua identità non la vedo una roba fatta bene sempre in visi sotto con le lenti dell'agenzia delle entrate che ti fanno contestazione ok secondo punto secondo punto ci deve essere non ci deve essere il computometrico cavoli sarebbe molto meglio che ci fosse anche il computometrico bello preciso però già quello lo vedo un pelino meno meno importante perché il computometrico il computometrico non è un elemento essenziale di un contratto di appalto il contratto di appalto deve avere deve essere indicate che opere vengono fatte dove vengono fatte che prezzo ha già mi sta perfettamente in piedi un contratto di appalto e poi lo hai quella delibera assembleare e quel contratto con il suo bel contratto di appalto no li hai fatti alle gare alla cilas perché tu il giorno dopo hai fatto depositare la cilas insomma entro il 25 hai fatto depositare la cilas il tuo contratto scusami la tua delibera assembleare siccome deve essere stata emessa entro scusa deliberata entro il 24 di novembre allora ti chiedo come fai a dimostrare che entro il 24 novembre effettivamente era stata era stata deliberata ed eseguita quella quella svolta quella quell'assemblea condominiale se l'hai depositata assieme alla cilas non hai problemi perché ovviamente l'hai data al comune all'interno di un di un di un di un circuito ufficiale quindi tramite il suo app oppure tramite il deposito diretto presso il comune hai dei timbri hai un protocollo e quindi se al 25 c'era e nella delibera assembleare è stato scritto il 22 il 23 il 24 voglio dire l'agenzia delle entrate neanche si mette a contestartelo perché insomma non ha tempo da perdere neanche l'agenzia delle entrate non è lì come un ragno pronto a mangiarti non è così sono persone preparate intelligenti quelli che fanno la parte contenziosa dell'agenzia delle entrate per cui se tu le hai allegate anche alla cilas voglio dire questa cosa non te la contestano poi c'è un'altra un altro aspetto estremamente importante che invece non è assolutamente da sottovalutare lo sai che però magari l'agenzia delle entrate anzi all'agenzia delle entrate non gliene frega niente però è molto importante per te nel caso in cui tu amministratore avessi dei condomini che fortemente non volevano nella maniera più assoluta il il super bonus per due ordini di motivi non lo possono volere uno non ci credono non lo vogliono pure dell'agenzia delle entrate hanno 100.000 motivi secondo motivo è questo se tu hai dovuto in quella delibera assembleare anche deliberare delle spese può essere che il tuo come si chiama può essere che alcuni condomini quelle spese non le vogliono sostenere spese per pagare il tecnico per presentare la cilas un condominio grande sono decine e decine di migliaia di euro ok potrebbe far accertare la nullità di quella delibera assembleare sai quando nel caso in cui tu non abbia anche previsto un fondo il fondo che ben conosci di accantonamento per le opere straordinarie ma questo è indipendente dal fatto che tu abbia deliberato spese tipo quelle del tecnico perché con il super bonus al 110 per cento devi ricordarti che nella delibera assembleare di esecuzione dei lavori il fondo lo devi sempre inserire e sai perché lo devi inserire perché lo prevede la legge vai a leggerti il codice civile lo trovi con la riforma c'è e quindi è molto importante quel fondo ci sia poi possiamo andare a disquisire quanto vuoi giorno e notte il fatto che ci vuole una delibera ad hoc per deliberare il fondo no il fondo lo deliberiamo insieme alla delibera di esecuzione dei lavori ma intanto che ci sia all'interno per cui questo fondo è sostanzialmente fondamentale allora se non lo hai fatto da avvocato e mi occupo molto anzi in realtà mi sono occupato anche tanto su ancora di più in passato quindi è veramente tanti anni che me ne occupo perché sarà dal 2006 di diritto condominiale io se fossi in te se non hai deliberato quel fondo ti suggerisco di indire velocemente di convocare velocemente un'assemblea condominiale di deliberare il fondo richiamando quella delibera e quindi automaticamente rettifichi tutto quello che hai deliberato in quella precedente entro il 24 delibera l'assembleare sanando sostanzialmente la problematica non ti posso garantire che ti puoi trovare un giudice che dice no beh ma la nullità è maturata nel momento in cui tu non l'hai inserito però tanto difenderti è veramente con forza dicendo sì però io quella nullità l'ho sanata per cui il mio consiglio importante di questo video è proprio questo non hai ci sono dei buchi dei buchi nella delibera assembleare che hai lasciato fai un'assemblea e copri di tutti quei buchi lì fai un crea in due volte una delibera assembleare completa e salva il super bonus e ti metti a riparo da quei condomini che sono disposti a combattere per annullare per far dichiarare nulla quella delibera assembleare seguimi sui miei canali sui social, sul sito internet metti mi piace, campanellina, prossimo video, noi ci vedremo, ciao!